Quali che tira? 13 giri al termine per i 90 atleti di gara 4 Nelle prime posizioni Placidi, Ludo Scanadini 13 giri al termine Roman cos'è successo? Non pregare il bicicletta, non pregare il bicicletta, non pregare il bicicletta 12 giri al termine, 12 giri al termine State dentro la carreggiata, state dentro la linea bianca, ecco il bicicletta State dentro, 13 giri al termine Gruppo compatto, 11 giri al termine 12 giri al termine, ed è Andrea Rigoni alla stessa Andrea Rigoni 11 giri, 11 giri al termine Che cosa? Coglio Spal di gaffe Walter Castiglola che ha vinto 7-8 gare anche nei professionisti Cosa ci dici di questa manifestazione? No, è un amico, sono merito, ho organizzato bene E niente, non si sente Perché le persone che organizzano è facile parlare, però poi si vuole dietro tutta un'organizzazione Quindi, a parte di scherzi, un grazie a Nicola e alla sua squadra che hanno fatto bene Sicuramente adesso dovrai rompere i coglioni anche il scoglio Perché no, ma anche di correre dietro ai ragazzi E' un bel vizio E' un bel vizio Vittoria numero 60... 64... 64esima vittoria 25.6 regazziatri SECRE 4-200 5-250 65.6 64.10 5-0 65.1 60.15 60.4 50.9 70.8 едrica Fabio Pasquale, Andrea Rigoni, Flacidi. Fabio Pasquale, Andrea Rigoni, Flacidi. Fabio Pasquale, Andrea Rigoni, Flacidi. Fabio Pasquale, Claudio Pezzo Ferrato. Fabio Pasquale, Flacidi. Claudio Pezzo Ferrato. Manca un motogiro a termine. Velocità sostenutissima, attacchi su attacchi, ma il gruppo è compatto, andiamo nelle prime posizioni, un corridore staccato, un corridore staccato, il numero, abbiamo sempre la possibilità di girare, il numero 750, 5 giri, 5 giri al termine, 5 giri al termine, la porta a prefista, ringraziamo anche l'automobile, un attacco di Andrea Rigoni, Andrea Rigoni, Andrea Rigoni attacca, ma i gruppi lì non mollano, Pascuali, Pascuali, Pascuali!